Dopo aver fatto un post della Fiorentina che fece arrabbiare i monti giuventini Decisi di fare un Pink Pala Potente appala ragazzi Qua ho Axel, oggi ho migliorato Oggi sono a sole e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video Che è un nuovo Pink Pala ragazzi Bene si Scusate A grande richiesta questo è il secondo episodio del Pink Pala E in Pala ragazzi ci sarà Rullo di, ah no l'ho già fatto vedere all'inizio LOL Bentner If Perché ragazzi come potete vedere adesso sullo sfondo C'è stato questo post abbastanza ambiguo Perché praticamente io avevo scritto tranquillamente Ambiguamente sulla pagina Facebook Che giocatore vorreste vedere nel prossimo Pink Pala Io mi aspettavo sì di Neymar Aguero quella gente lì Poi c'è stato uno che ha scritto Vogliamo Bentner If Il suo commento dopo pochi minuti raggiunge i 5 mi piace Che poi diventano 10 Poi si trasformano in 20 Arrivano addirittura a 40 Quindi io cosa ho detto Basta bisogna fare una top 3 Un contest tra i 3 giocatori più richiesti Quindi appunto ho fatto questo post Come potete ben vedere Info Pink Pala Che giocatore vorreste che usassi nel prossimo episodio del Pink Pala Bentner If Neymar If E la Vets If Ragazzi c'è stata una sfida Potentissima Bentner If e Neymar If Erano arrivati a 305 voti a testa Quindi erano 35 pari Ho detto Vogliamo fare una roba tattica Mettiamo mi piace da solo Mi sono messo mi piace da solo sullo stato di Bentner Così Neymar è stato battuto 306 a 305 da Bentner If E infatti oggi sono a presentarvi il Pink Pala con Bentner If Poi ragazzi Ampia che la curiosità Ho già fatto 4 estrazioni Mi pensate un po' come è andata bene oggi E non è andata bene neanche una Adesso vi spiego brevemente Perché nella prima c'era poca gente Nella seconda la gente non riusciva a commentare Nella terza Dopo 20 minuti se non mi sbaglio Dopo 20 minuti Nessuno ancora era riuscito a trovare il numero giusto E quando uno l'aveva trovato Ovviamente mi viene a dire Ma lo fai su PS3 Vero? Mmm Livello ritardatezza della gente It's over 9000 Questo è appunto la quarta estrazione Cosa ho deciso di fare? Come potete ben vedere il tweet è abbastanza tattico Perché? Perché bisognerà scegliere un numero da 1 a 10 Così che è quasi impossibile Aia Addirittura sto parlando così forte che mi fa male la pancia No so E appunto è quasi impossibile che nessuno riesca a trovare Infatti da 1 a 10 Dato che prima avevo scelto il 39 Nessuno in tre estrazioni l'aveva L'aveva trovato Tranne appunto quello lì che mi scrive che Se lo stavo facendo su play Ovviamente Vabbè tranc Quindi Vediamo se qualcuno troverà il 9 Facciamo tweet Aspettiamo che qualcuno scriva 9 Ovviamente scrivere 9 sarà il mio sfidante E il mio sfi Petrarca Allora ragazzi Ho appunto twittato 3 minuti fa E indovinate un po' C'è la gente che è così furba Cioè ovviamente io non voglio prendere in giro nessuno Però mi fa abbastanza ridere Che ad esempio Hanno commentato in 3 6 8 In 8 Ci sono 10 numeri E quanti numeri sono stati Appunto diciamo scelti 3 Perché 3 persone hanno scritto l'8 1 persona ha scritto il No 4 persone hanno scritto l'8 3 il 7 Ed 1 al 3 Quindi pensate un po' Cioè ragazzi Credo sia anche ovvio Che se ovviamente uno scrive il 7 E voi non statele a riscriverlo Perché se quello là non ha vinto Non credo che vinciate anche voi Comunque vediamo qua Se qualcuno Nessuno Anzi sono arrivati altri 2 7 Un altro 8 Boh non lo so Magari il 7 e l'8 Sono i numeri più richiesti Però appunto Il numero giusto è il 9 Quindi nessuno ancora Ha fatto giusto Uno ha scritto ancora l'8 E un altro 36 Però il 9 Però il 9 Il 36 Si è detto numero da 1 a 10 Questo sceglie il 36 Però il 9 Non l'ha ancora scelto nessuno Io ho dei poteri ragazzi Scelgo numeri che a nessuno mai Verrebbero in mente Allora ragazzi Finalmente Abbiamo un vincitore Veramente oggi ci sono stato un macello Solo per l'estrazione ragazzi Infatti sono contentissimo Di aver trovato un vincitore Comunque chi è questo vincitore È Steandre98BTV E allora adesso quindi Gli scrivo Hai vinto E ci sentiamo appena Appunto lui accetta la mia richiesta Bolla E andiamo ad invitarlo Anche lui ragazzi Non Ovviamente Nessuno fa ciò che chiedo Bisognava essere già su FIFA E ovviamente lui era offline Tranquilliamoci Tranquillizziamoci Andiamo ad invitare Si chiama Come si chiama Come Steandre98BTV BTV L'abbiamo invitato È arrivato È arrivato madonna Mi sta fermando il cuore Bentner Engie Guardate le mie maglie Quanto sono belle Oggi uso questa Dai Dai Abbiamo entrambi lo stemma verde Che è magicata 4-3 180-82 di valutazione Serie A I portano Marchetti Difensori centrali Benatia Ogbon Terzio sinistro Kevin Costante Terzio destra Mattione De Sceglio Nengolan Pogba Marchisio E per concludere Il trio d'attacco Stefano Stefano Mario Gomez Cerci Madonna Quindi Ragazzi È una bella partita Si presume Che questa sia una bella partita La grande Vi ricordo Magari Per aiutarmi a vincere Magari battete Tre volte le mani Stavolta Perché due Era troppo poco Quindi per favore Ora mettiamoci tutti lì Cinque secondi Perfetto Via Dopo questo Ragazzi È impossibile Che io proprio perda Adesso le ultime Farò le famose Episodio 4 Però subito Paoligno Paoligno Vede Balotelli E Saravi Per la Spiriqueta Spiriqueta Paoligno Paoligno E Saravi E Saravi Bentner Bentner La botta Mamma mia Che gol Che stava per fare Che gol Che stava per fare Foro il gioco Pensavo fosse foro il gioco Mannaggia 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 Uh Mannaggia Gliel'ho passata A lui Gliel'ho passata A lui Buo Si inizia bene Si inizia bene Ragazzi Devo dire che in questi giorni A pare che non sto giocando per niente a fifa Cioè non sto giocando in generale Poi qualche gioco Ho iniziato A rigiocare un po' Code Le sto vincendo tutte Subito No Va Aspiriqueta Mamma mia Aspiriqueta Entra Bentner Bentner Non ce la fa Yes Tira Tira Ma che tiro Ma che tiro Ma che stiamo scherziamo Ancora è buona però È buona ancora Per Eriksen Hop 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 Hopla Bentner Non tira È vina ancora per Bentner Bentner vede Eriksen Eriksen Che vede Bentner entrare Bentner Ma non ci posso Tira di testa da fuori area Ma che vuole fare Dai 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 Che azione E la parata Le paratutze L'hai presa L'hai presa L'hai presa L'hai presa L'hai presa Perché a lui Palo Non segnano Non segnano Ho preso un altro palo Dai Ci crediamo Non ci credo Come si si fa a credere Se mi segna adesso È salito una volta Mi ha già segnato Se mi Non ci posso Non ci posso credere LOL Dai Palo Dai Palo Dai Oh Dai Porca Miseria Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia E siamo a due partite Di fia Su mio canale Perse Ragazzi si migliorerà Anch'io Eh ma perché ultimamente Non ho neanche più il tempo di giocare Per la scuola Per la scuola Mi sta tirando matto Veramente Comunque Credo proprio Che il prossimo video Sarà un wager match Di 2000 crediti No magari Ah no Vi ricordo che se volete comprare crediti Mi raccomando andate nel sito che consiglio in descrizione Schiaffa con gli stash È il sito più economico di fifa E quindi Adesso vedrete quando gli andrò a vendere il giocatore Comunque detto questo Io vi saluto E vi dico potente A pala E siente il prossimo video Bolla Ciao